Siamo qui con Mauro Manzietti, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, che ha moderato una tavola rotonda sullo screening, che non è solo screening audiologico neonatale, ma probabilmente anche riferito ai pazienti adulti e anziani. Cosa è emerso da questa tavola rotonda e quali sono le vostre prospettive, le vostre aspettative? Dalla tavola odierna, ma non solo, da tutti i discorsi che portiamo avanti ormai da tempo, emerge la necessità di sostanzialmente creare delle campagne o delle iniziative di informazione, di sensibilizzazione sul problema di udito, che mentre nei bambini chiaramente scopriamo e sappiamo tutti che l'importanza di un'individuazione precoce, di uno screening precoce per valutare eventuali ipoacusie sono davvero fondamentali, perché nel bambino è evidente e noto a tutti che ormai il problema di udito non diagnosticato e poi crea dei problemi che questi bambini porteranno avanti per la vita intera, con costi sociali per il sistema sanitario e anche umani per le famiglie e per tutti quelli che li circondano, davvero incalcolabili. Non solo bambini, che poi rappresentano solamente 32 milioni nel mondo su 360, che sono i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi scopriamo che il 91% invece degli ipoacusici sono proprio adulti e sono proprio questi che necessiteranno soprattutto di informazione, che ci permetterebbe di risolvere almeno il 50% dei casi, informazione, corretti stili di vita e fare qualcosa che in qualche modo sensibilizzi sulla necessità di fare almeno un controllo dell'udito o almeno di somministrarsi un questionario che serva a stimolare un po' l'attenzione su un senso troppo spesso trascurato. C'è un allarme, c'è una vera epidemia sociale, queste sono persone che vivono con noi, che non hanno mai fatto un controllo dell'udito, abbiamo scoperto dalle iniziative messe in campo, andando in piazza, Nonno Ascolta, Mio Prevention Race o altri casi che sono stati citati, che oltre il 58% delle persone non aveva mai fatto un controllo dell'udito, parlo degli adulti. E questo significa avere un po' preclusa la possibilità di vivere meglio e di vivere appieno una vita sociale che è appagante, che sia valida per sentirsi ancora autonomi e perfettamente inseriti nel contesto sociale. Da qui è nata la necessità di fare qualcosa, abbiamo lanciato delle idee importanti e probabilmente sarebbe opportuno partire proprio dalla scuola, andare a sensibilizzare i bambini con incontri, dibatti di materiale informativo per poi a catena, a parte curare e fare prevenzione sulle nuove generazioni, ma probabilmente nel bambino poi vediamo tutta la famiglia intera che riceve un messaggio di prevenzione che oggi è assolutamente necessario. Dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria, cosa vi serve? Io penso al fatto che lo screening audiologico neonatale purtroppo ancora in Italia è presente in maniera frammentata. Esatto, dunque cosa può servire davvero? Avete un tavolo aperto col Ministero, contate di averlo, cercate un appoggio immagino anche dal punto di vista della politica per riuscire a diffondere uno screening di questa portata? Invece quello che manca è proprio questo, non c'è nessun appoggio dalla politica, sono iniziative che dovrebbero sostenere i governi e in qualche modo creare delle iniziative di massa perché di numeri alti parliamo, invece no, siamo sempre noi audioprotesisti che mettiamo in campo delle campagne che sono un po' localizzate, in qualche modo non hanno quella portata di pubblicità progresso oppure iniziative veramente valide a livello nazionale se non quelle citate e che però sono sempre organizzate sostanzialmente basate sull'iniziativa di aziende oppure di associazioni che fanno questo, non c'è una politica da questo punto di vista, come manca un po' su tutto il sistema sanitario nazionale, quindi in realtà la prevenzione è attualmente ancora l'ultimo anello della catena quando invece dovrebbe essere la prima cosa su cui investire per far sì che le successive generazioni e in generale l'umanità migliori la propria qualità di vita, dal punto di vista dell'udito basta poco, veramente oggi dicevamo basterebbe un questionario per stimolare l'attenzione, basta parlarne secondo me. I vostri interlocutori chi sono? I lipoacusici, la popolazione, i medici di famiglia, il ministero, chi sono i vostri interlocutori diretti per attuare queste bittime? Sicuramente l'ideale sarebbe andare a colpire con una campagna di informazione, quindi mi riferisco ai media, mi riferisco ai social media, tutti quelli che possono arrivare direttamente all'utente finale, certo è che c'è tanto da fare anche con i medici di medicina generale che giustamente lei ha citato, perché sono loro poi quelli che dovrebbero accendere, innescare il meccanismo poi di soluzione dei problemi, dando semplicemente un consiglio, guardi faccia un controllo dell'udito, vada dal medico specialista, si faccia vedere perché la situazione si può risolvere, molto spesso con una protesi acustica che è alla portata di tutti ed è sostanzialmente la soluzione più semplice per riabilitare tutte le aree uditive e quindi di conseguenza migliorare la qualità della vita. Un'ultima battuta brevissima su questo congresso, come sta andando? Siamo a secondo giorno, avete detto che c'è un record di presenze, in realtà il pubblico è anche abbastanza frammentato perché ci sono diverse proposte, quindi gli studenti da una parte, ci sono le aziende che propongono la loro formazione, le tavole istituzionali vostre, qual è il suo parere? È il congresso dei record, i numeri ci danno ragione perché sono oltre 1500 gli iscritti registrati, quindi sono persone che hanno scelto di pagare e venire a partecipare al congresso. Sono tante le offerte che abbiamo proposto in queste giornate perché c'è cultura di tutti i tipi, c'è anche intrattenimento, c'è anche un'offerta commerciale da parte degli espositori che ringraziamo naturalmente per la loro presenza, è molto bello stare qui e devo dire che il successo è enorme ed è sotto gli occhi di tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie.